Uno sfondo della lavatrice che è praticamente costantemente in azione, già era costantemente in azione prima, adesso con Camilla non si ferma mai, mi chiederà gli straordinari. Sono riuscita a diciamo sistemarmi un pochino, scusate la mia nuova vestaglia di pile ma qui a Milano è arrivato improvvisamente il freddo e quindi niente, ancora i termosifoni non sono accesi e questa è la mia situazione. Rosalinda Cannavo ha recentemente informato i suoi fan attraverso i social media che dopo aver dato alla luce la sua bambina Camilla si sta dedicando completamente alla piccola e alle attività quotidiane. Tra queste ha scherzato dicendo che le lavatrici sono diventate una parte importante della sua giornata poiché i cambi per Camilla sono tantissimi. Rosalinda ha anche spiegato che dopo il parto sta iniziando a prendersi cura di sé e a tornare a sentirsi più normale riprendendo gradualmente la sua routine. Tuttavia ha voluto chiarire che quest'anno non parteciperà alla Fashion Week milanese del 2024. I motivi sono semplici, non abbastanza tempo da dedicare all'evento poiché è completamente assorbita dai suoi nuovi impegni come mamma. Nonostante l'assenza all'importante manifestazione, Rosalinda ha rassicurato i suoi fan dicendo che sarà comunque più presente sui social media, dove condividerà aggiornamente sulla sua vita e sul nuovo capitolo che ha appena iniziato con la nascita di Camilla. I suoi seguaci, sempre affittuosi e fedeli, sono rimasti comprensivi e le hanno espresso sostegno e affetto in questo momento così speciale.